È di due feriti, uno in maniera grave, il bilancio dell'incidente stradale che si è verificato giovedì sera all'incrocio tra Viale Venezia e Via Velo a Bassano. A scontrarsi due auto condotte da un 64enne di Romano e da un 71enne di Borsorel Grappa, proprio quest'ultimo è rimasto incastrato tra le lamiere dopo che, mentre stava svoltando verso Via Velo provenendo da Est, è stato centrato dall'altro veicolo che arrivava dal senso opposto di marcia. Sul posto, per i rilievi e per regolare il traffico fortemente rallentato, gli agenti della polizia locale, mentre i vigili del fuoco hanno estratto dall'abitacolo il ferito, portato con l'ambulanza del suo al San Bassiano, dove si trova tuttora in prognosi riservata. Ferito, fortunatamente in maniera più lieve, anche l'altro conducente.